La riunione normale che dopo le riunioni politiche e tecniche vedremo in concreto le risorse per i politici, per lo signorio di Roma, per lo signorio di Vicenzi, per la città, 168 milioni di euro per il piano, il risorse catenini non abbiamo deciso la salvezza, non la città molto americana, la regione è stata sottoperta del piano, il risultato di un componente, la porzione che riguarda la regione, ma c'è un cuore fondamentale per la città molto americana. I taglieri e altri 50 milioni di euro che sono in provenienza dal piano operativo nazionale di Totodiname, il momento che riguarda la serie di tempi per il 422 mila, i cittadini, i cittadini, i cittadini, i cittadini come a me erano, secondo me, il risultato di incersimento due periodici, oppure le realità di ultimi di crescita della popolazione, e poi c'è una risorse che andranno a vedere, c'è un'epoca di dover divirà, risorse che a tutti i cattivi abbiamo perso, perché erano risorse dedicate d'europeo e le città molto americana.